Questa è la serie B-Win. Sesto minuto, la botta di Troianiello para il portiere dello Spezia, Russo. Attenzione, sedicesimo, Magnanelli su punizione e non ci arriva Missiroli. Attenza affidinante da parte del Sassuolo. Ancora in avanti, un retropassaggio pericoloso di Porcari. Esce Russo con i piedi rimessi in rimessa laterale. Poi attenzione, Catellani alla trentunismo. Boiaci indietro per Missiroli. Il pallone sotto l'incrocio. E il Sassuolo che passa in vantaggio proprio sotto al settore ospiti. Occupato dai tifosi nero-verdi. Rivediamo Boiaci d'appoggio per Missiroli. Pallone sotto l'incrocio dei pali. Il Sassuolo che passa meritatamente in vantaggio. Trentunismo il corner di Gennaro. Il colpo di testa di Sansolini. Longo, proprio sulla riga della porta. Salva il possibile pareggio di Sansolini. Poi attenzione al Sassuolo. Dentro il pallone di Troianiello. Non trova alcun compagno sul secondo palo. Poi libera Garofalo. Attenzione alla bomba di Catellani. La preoccupazione sul volto di Michele Serena. Si va così. Nel secondo tempo con il Sassuolo ancora a fare la partita. Soddisfatto di Francesco. Quarantottesimo. Cisba. Occupere un pallone sull'altro quarto. Dentro per Troianiello. Il pallone che non viene deviato da Russo. Ed è il 2-0 da parte della Sassuolo. Rivediamo la caparbietà di Cisba. Il tiro di Troianiello. Non sembrava irresistibile. Ma passa vicino a Russo. Il 2-0 della Sassuolo. Lo spezza che prova a rimettersi in partita. La rovesciata di Antenucci. Pallone sul fondo. Lo spezza che sembra risvegliarsi. La distanza. Il tiro ad un metro dal palo. Lo spezza è ancora in partita. 59esimo. La botta di Lollo. Pomini in corner. Un bravo. Spezza in secondo tempo. Ma ancora Sassuolo. Boiaci. Il sinistro. Sul fondo. Sassuolo ed un passo dal Trissa. Lollo spezza. Dove. Il secondo palo. Il colpo di testa di Okaka. Il palo. Spezza a trazione anteriore dentro Okaka. Di Gennaro spostato al centrocampo. Grande tridente per Michele Serena. Ma è ancora Sassuolo. Ad un passo dal Triss con Berardi. Pallone sul fondo. Che gran partita. Alla picco. Attenzione. Bobo. Sul secondo palo. La testa di Sansovini. Il miracolo di Pomini. Equivale ad un gol. Una grandissima parata. Poi attenzione. Ancora la Sassuolo. Berardi. Il sinistro. Ancora Sassuolo. Un passo dal Triss. Poi Fischia. La fine. 2 a 0. Da parte della Sassuolo. 5 vittorie consecutive in questo inizio di stagione. 15 punti. Si lecca invece le ferite. Lo Spezia. 2 KO consecutivi. Grazie.